Allora mister, è arrivato alla corte della US Tabbia in questa settimana il nuovo arrivo anche se ci ha fatto un pochettino tentennare Polak e si spera quanto prima l'ufficializzazione di Lepie. Potranno essere utili alla causa Gialloblì questi due nuovi arrivi? Assolutamente sì, saranno due giocatori che ci daranno sicuramente una mano. Per quanto riguarda la gara con l'Ischia in Coppa Italia c'è stato un turnover da entrambe le formazioni, anche se la US Tabbia ha dimostrato anche con le seconde linee di poter fare l'ulteriore rimontata. Domani sarà tutta altra partita? Sì, domani sarà assolutamente un'altra partita perché ogni partita ha storia a sé, è una partita molto importante per loro ed è anche molto importante per noi. Noi abbiamo grandissimo rispetto per l'Ischia. Io sono tranquillo perché i miei ragazzi hanno capito che nel calcio partite facili non esistono e quindi bisogna sempre partire da una grossa umiltà, un grosso spirito di sacrificio. Questi miei ragazzi lo hanno capito benissimo e quindi da questo punto di vista mi lasciano tranquillo. La US Tabbia non vince a Ischia da ben 60 anni. L'ultima volta, circa 17 anni fa, è stato un pareggio per 1-1 e nelle file dell'Ischia giocava il nostro DS Pasquale Lo Giudice. Sì, questa fa parte della storia. Noi adesso siamo assolutamente concentrati sul presente e sulle difficoltà che sicuramente ci saranno da superare domani.